E signori, benvenuti in questo nuovissimo video del Signor Ferro Oggi siamo con Refe per testare le nuovissime armi Bugo! Delle tartarughe ninja di Ugo? Chi è Ugo? Bugo? Chi sarebbe Bugo? Non so che è Bugo E' piano, ci stanno persone qua davanti, quindi cerca di far piano E invece non andiamo, let's go! 32! L'ha lanciato la torretta, l'ha lanciato la torretta! Ha una di vita, quasi ucciso Oh no, se ne è scappato No way, no way Non fa nulla L'importante ricorda è che è non morire Quindi, Ugo l'abbiamo visto ed è il tizio Shizu No, come cavolo si chiama? Ugo, veramente Ma si chiama Ugo? Senti, sono un po' con i nomi Sono un po' lo dovresti sapere Non ho mai seguito tartarughe ninja Non mi fai pazzire Ma quello che mi piace sono le nuove armi Io voglio quelle, punto e stop Ora, io vorrei dirti una cosa Belle le nuove armi, belline Ma vuoi mettere il maestro Splinter quanto è caruccio? Ah, il maestro Splinter quello, ok, chiaro Ehm, sì, carissimo caruccio Senti, voglio killare questo tizio, eh, cosa voglio? In questo momento voglio solo ciò Io voi, vi ricordo, codice ferro nel negozoggetti Io voi, io avvo No, ferro, ultimamente mi stai molto devolendo Basta, ero per le scatole in ogni caso Ero per le scatole, vabbè Vi ricordo, codice ferro nel negozoggetti Per il vero massimo supporto Signori, andiamo a piegare sto tizio che se ne stava per scappare Che non va bene questa cosa Dobbiamo andare a riprenderlo subito Ma tu devi il pompa viola, bro Yes, ma preferisco quell'altro singolo In ogni caso, vieni con me che dobbiamo andare a pushare a distese Ovunque ci siano persone Qua non abbiamo armi Ah, io ti dico, le armi che vuoi provare, tra l'altro Sponano un po' più in là, ok Anzi, no, sponate adesso, guardale Ok, ok, dove stanno? Eh, sì Uh, ce n'abbiamo una qua proprio a fianco, eh Buono, questa è andata a prendere istantanea Questa è andata a prendere istantanea, bro È nostra No, ma ci sarà sicuramente tanta gente che ce la verrà a prendere Perché sono delle armi veramente, veramente, veramente forti Eh, te lo dico Chiaro, ma ti pare che io abbia... No, bro, 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 ferro, ferro, ferro Ho detto veramente, veramente forti Eh, chiaro, ma ti pare che ferro abbia paura Ho detto veramente, veramente forti E io non sto cap... Ti te lo giuro, oggi, io non so se sono io tarato Ma non capisco Cosa vuol dire veramente... Che sono veramente, veramente forti, capito? L'avevo capito, perché l'hai ripetuta sei volte In ogni caso, io l'ho già presa, quindi... Attento a prenderla in mano Mi hai spaventatissimo Fra, distante, perché sei veramente, veramente forte Tu veramente sai cosa meriti? No, te lo dico io, cosa sei veramente, veramente Vabbè, senti, vieni qua, veloce, che ti prendi due pezzi di pizza Ma quella è veramente, veramente buona It's time to time It's time to time, fammi vedere Wow, ho volato Eh, Gigi, grande fra Vola senza di me Ok, sì, perché ci sono le persone, sono un pollo, forse Eh, sì, idiota, io non posso arrivare, ma... Sì, me lo sono dimenticato Vabbè, tranquillo, me lo posso anche andare indietro In ogni caso, guarda qua, allora Ah, ok, cioè, hanno i dolcecchieri e mi stanno praticamente mirando, bro Ok, li potrei far cadere, eh Oppure... Arrivata la gente Buono, lasciamogli pushare Io lascio far tutto a loro, ok Vieni a me, vieni a me, tu mi metterai già un peno, no? Ma se andassimo a pusharli ora che prendiamo like Brother, prendo like Vieni Eh, ma io non ho like Chiaro, ma vieni con le build, te Ah, ok, sì, giusto Cioè, quando... Io like Ne ho pochi pure io, però prendi like Ma posso far cadere tutto, Ferro? Vai Devi essere un po' veloce a farlo Fai cadere tutto? Oddio, c'erano qua Oddio, oddio, è pieno È su, qua giù No, no, mi sta pushando Ok, sono su Ho salito, ho salito Ferro Ucciso uno, ok Per dove sei? Qua sotto ho ucciso uno Mamma mia che ti l'ho fatto Quindi io sono salito per niente Cioè, sei arrivato un po' in ritardo Ho detto, fai veloce Spacca tutto Avevano l'arma mitica Questi qua avevano il medaglione Oh mio Dio, come l'ho chiamato bene? Posso averne una? No, il problema è grave Nel senso, ho l'arma mitica Ma in che senso Posso averne una? Cioè, ce n'è una di arma mitica Uno sul treno, uno sul treno, uno sul treno, uno sul treno Vedo più 26 No, ha uno di vita, brodero Ha uno di vita Ah, ok, mi pushano Ferro, ferro, revin Assolutamente perché io non ho vita Allora sì, corro a te, corro a te Ok, sto arrivando per l'anno di splinter Sì, ho mini, ho mini, mini Dove stanno i tizi? Non so venire Distrutto? Non ci sta più sopra i te Già nel paradiso, nell'inferno il brodero Let's go, let's go, let's go Allora, cerca di campanartene un attimo Vieni da me che ti do il rampino Faccio stare i rampini Se riesci Edici, edici Ma mi ha pushato No, no No way Non me lo dire, non me lo dire Non me lo sardi Ok Ma è su l'arma Ok C'è il muro Ho uno di vita, brodero No, no, no Ho ucciso Ah, bravo Ok, signore F, troppo forte Allora piano però Dai, dai, mi resti tipo stra qua No, cioè, proprio qua Ci stava proprio Ah, no, lì c'è il medaglione Effettivamente Mamma mia, signore F Let's go Abbiamo le armi e sono devastanti Però io le voglio provare in un fight Nella quale colpisco Perché si può volare con sta arma Ed è devastante Ma si può anche colpire E' quello che vorrei provare io In ogni caso Vorrei avere avuto dello shield Eh, cosa che sì Purtroppo non hai avuto Vabbè, in ogni caso, F Tranquillo Qua adesso abbiamo il vero maestro Splinter In realtà di chi è quest'arma? Di Donatello? Dico, vai qua, vai qua, vai qua Perché dietro di te c'è un medaglione Ok, è vero, vero, vero Di chi è quest'arma? Di Donatello No, non ce l'ho Infatti è questo il grande problema Cioè, io, pensa un po' te Ho trovato il tizio che aveva l'arma L'ho chillato Che mi aveva pure Ma non aveva il medaglione Molto più forte Ma non aveva il medaglione Adesso cosa ti dico Io tornerai indietro E fai tearei quelli col medaglione Chiaro Io ti direi Sì, ma Non dobbiamo morire Quindi Trovo ovviamente Trovo ovviamente le armi belle Poi andiamo Ok, ok Su questo sono d'accordissimo Eccolo qua, signori Il rife Se ne torna direttamente Hai fatto un girato Nel paradiso o nell'inferno Che sono curioso Shady is back No, ovviamente Nel paradiso Ma che domanda Cioè, voglio dire Bravo Non so se hai notato La mia qualità di vita Ehm, no Ma neanche io in realtà Cioè, effettivamente Non ha senso Dai, in ogni caso Aspetta Allora, un second Cioè, tu capisci che Tu mi fai Mi fai fare troppe cose Troppe velocemente Ok, allora Ti ho tirato un pesce Bene Ho delle armi ora Let's go Ok, però non ci sono più le persone Dove stanno? Meglio Vado a recuperare le mie armi Di prima, allora Ok, sì, sì Perché c'è pure il medaglione qua Vai, vai, vai Andiamo, andiamo Allora, Riff Ti spiego un attimo Cosa faremo adesso Spiemi che devo prendere il rampino Che mi volevi dare prima Perché se no No, ovviamente Ci metto 6 ore A raggiungere qualsiasi cosa Ok Giusto Stanno qua sopra Allora, appena li vedo Stanno letteralmente qua davanti Hanno appena What? Raga, ho appena visto Un colpo assurdo Hanno appena pure Le butta Oh, mio Dio Ha brutta la sinistra E davanti, bro Bruta situa Che facciamo? Andiamo a pushar Quelli con la taglia Io intanto sto arrivando A recuperarmi un attimo Il medaglione, ok? Bravo, tu Luta Fai tutto con calma Tanto questi qua Ci danno prima o poi Il presumo, vero? Perché se ne stanno la fermi? Perché aspetano solamente Di cecchinarmi probabilmente No, no, no Fidati, non escono con la testa Perché se dovesse uscire lì Cecchino io Uh, uh Ed è questo, ragazzi, che Ok, sta arrivando E forse uno solo Lasciami non farti vedere, eh Ok, no Poteva averli sparato qui in realtà Ah, ok, idiota Sta dietro l'albero, eh Ok, sì Sto cercando il rampino Ah, eccolo qua il rampino Goloso Ah, ok, sì, sì Ho capito L'idiota ho capito cosa vuole fare Vogliono cecchinarci Te lo dico io Sai cosa voglio fare però anch'io? Non cecchino io prima Ah, sì, ma io sono sicuro Che lo farai come di me Ma già loro Ok, no, sono un team comunque Sono saliti Ma più che altro sono saliti Vabbè, andiamo già in sepo, ho capito Ma sì, ma infatti C'è, dovevano arrivare loro Non noi da loro Ragazzi, ve lo giuro È la partita più strana Che abbiamo visto E mo' sparano Ok, clown Clown Avete veramente Vabbè, senti tanto adesso Questo qua No, 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 non dire nulla Non dire nulla per questo qua Adesso verranno in safe Ma abbiamo un medaglione anche a test Cioè, siamo sopra un medaglione, bro What, è vero? Perché siamo sopra Un medaglione sopra di noi? Ma che succede? Eh, perché bro È quello di Sese del 2 Ah, ci sono due medaglioni di Sese del 2 allora Ok, ci avviciniamo anche noi un pochettino Poverini Bro, come preferisci? Cioè, io te lo dico Io non ho ancora provato le armi Delle tartarughe ninja Ok, va bene Nessun problema Ce l'ho io E basta, non avanzano Te lo assicuro Allora, tu usa le armi normali Io mi concentro su di queste Ma soprattutto voglio sniperare in testa io E mi fallo E pensate di sniperare un medaglione? E pensate di uccidere un medaglione E prendere due medaglioni E vincere la partita con 12 kg a testa? Molto più bello Hai ragione Ok Ferro, ferro, ferro Vieni con i fatti Sì, sì, sì Facciamo prima quelli qua sopra la montagna, ok? Se no ci fanno il panino Vero, vero, vero Allora Andiamo, andiamo, andiamo Così nepperemo questo John Wick Ah, sembrerebbe Ok, vai, vai, andiamo Dobbiamo killarli, eh Oh, mio Dio, per pochissimo Stanno in uno e in due Occhio, mi stanno andando Molto cattivo Uno solo Non è che l'altro se ne sta là Ok, ho preso il muro L'ho preso dietro 120 e ho ucciso Ok, sì, l'altro stava dietro, secondo me Ok, ok Facile, 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 facile Mi stanno solamente colpiti Assalto, brother Sta qua, sta qua Sta qua dietro, eh Il tizio sta qua Mi arriva? Andiamo, io vado un attimo verso la safe, eh E provo a sniperarlo Ok, bravo, bravo Provo a spammargli Se si spone lo cecchino in testa, eh Cecchinato, non in testa Allora, ferro, io ti ripeto Mi servono solamente colpi e salto Eh, se vieni da metri di troppo Mamma mia, guarda, guarda il tuo ferro Quanto tene roppa Mamma mia, mamma mia Comunque quel tizio là L'avevo stemperato Potevamo forse pensare di pusharlo Non l'abbiamo fatto Ormai lui potrà prendere la scheda Ma l'importante è che non se ne scappa fuori Safe Gente a destra Gente a destra Ok, sì, mamma mia Cecchinato, ucciso uno Mamma mia Stanno là Bisogna pushare Sono i medaglioni, sono i medaglioni Riusciamo a spammargli Spammiamo, non devono curare Ok, non hanno curato Usciamo, vai, vai, vai Spammo ancora, spammo ancora un pochino No, 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 armi Devi spammarti Un attimo, un secondo Spammo io ora Ok, uno di via Ah, ok Ucciso Ok, passate il mezzo al muro Sette volte ci stava Effettivamente Dimmi che erano i medaglioni Dove stanno Let's go Peter Griffin Dimmi dove era il pompa Oh mio Dio Dov'è il pompa? Non l'ho ancora preso, eh Eh, mi sa che non ce la sai Zero, zero Raga, ma che è, no Cioè, stiamo devastando tutti Ma il fatto che non avessero il pompa È devastato Cioè, gravissimo No, mi viene da piangere Comunque il tizio Se sta andando fuori safe Guarda, l'ho che ha preso a zip Fermo, dobbiamo andare in safe Vieni verso il safe Che chiediamo questo Appena riusciamo Vieni verso di me Prendiamo la macchina Mamma mia, raga Ma che partita assurda è Oh, regà Codice ferro Sempre per sempre Il negozio oggetti Mi raccomando Fondamentalissimo Robert Esco, andiamo Vieni, vieni, vieni Anzi, guida testi, riesci Eh, scusa Ho fatto uno switch Un po' particolare Esatto Lo voglio stampare in testa Tu avvicinati Andando un più o meno derito Tanto lo cecchino io No, per un pelo Ok, là Intanto hanno rebuttato fuori Se fa questo Un altro medaglione ancora What? No, ragazzi Gravissimo Sto capendo letteralmente nulla Ve lo assicuro Ma mia macchina Straveloce comunque Sì, infatti Complimenti alla macchina No, per poco Ok Lo imbocco Vai, vai, vai Derito quel detto Lo imbocchiamo, lo imbocchiamo Bravo Ok, allora È il momento del fight Occhio Bravo, ok Allora, dietro No, 90 Ok Ah, ok, 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 ok Ah, ok Craccato due volte No, brodo Aveva il medaglione Sì, sì, ha craccato due volte Comunque non dovrebbe avere Troppa vita, eh Ucciso Infatti 120 Ok Vieni, vieni Su qua, su qua Let's go Ok Ci sto medichi Tiratelo te Io inizio a andare Io ne ho un'altra Ok, allora Fai una cosa Inizio a andare in safe E lanciamelo, ok Thank you, thank you Vediamo che armi Aveva questo Aveva il pompa lui Sì, aveva il pompa lui L'ho preso Oh mio Dio ragazzi Let's go, let's go, let's go Ok, sta uscendo una partita Devastante, brother Mamma mia Io c'ho 7 kill Oh mio Dio Ho fatto dei begli assist Devo dire Va bene Hai fatto dei begli assist Ti dico Questo era un assist Veramente orribile Ma gli altri li hai fatti Di assist Ma ci aveva uno di vita Ci aveva questo Hai gracchato due volte Gli avrei fatto 30 Ma gli ho fatto 85 Più 47 Non ci credo Mamma mia ragazzi Stai mettendo Orribile Stai mettendo Zero mentire Mamma mia ragazzi Allora in ogni caso Qua ci dovrebbe stare Esatto Una cosa della tartaruga ninja Quindi vieni qua signor Efei Comprati istantanamente Non ti ascolto più Senti ti ho pure comprato la pizza Non mi ascolti più davvero Non ti ascolto più Zero Oddio Per una pizza effettivamente Per una pizza Solo una fetta Attenzione Comprati la roba Prendi i mini Fai ciò che vuoi Della tua vita Ma soprattutto Vediamo di vincere sta partita Con i poteri delle tartaruga ninja Raga Scriveteci nei commenti A parte di scherzi Se secondo voi Sono devastanti oppure no Onesto solamente Io lo sto usando solo per il move Ma attenzione perché Guardatelo Cattivissimo eh Sai che è forte anche Nel spaccare le cose Però non lo so Magari li testiamo contro gli ultimi Ok Ma fai un po' quello che vuoi Ormai io non voglio più avere Che fare con te Eh vabbè te la sei presa Signor Riff Stavo scherzando Lo so Guarda che sei sempre il migliore Da parte mia Oh Gente Un mio Dio C'è tra me Ah Vai fateli Non li avevo visti Porca paletta No anche da dietro Occhio Riff Io sono qua 116 Ok fai chiamoli Sono in due da me 120 e un altro No ferro 39 white GG 39 white C'è dietro Tu copriti Copriti curati Prendi le cose Io lo chissavo Ok Ma che Un altro team ancora Vabbè tranquillo Tranquillo Zero problemi Ok questo Uno di vita Non moriva Ok che lato uno Voglio andare a pushare l'altro Però io eh Dove sta l'altro Altro vieni qua Allora Altro penso che non si chiami così Onestamente eh No no Si chiama così per forza Guarda che stai Ah sei qua sopra Ok Piramida Guarda è lo piramido No Questo qua È un player molto strano Bruder gioca Gioca in una maniera stranissima Te lo giuro eh Ok Ok giustamente 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 Crackato Lo faccio godere No 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 way Ma guarda questo come gioca Ma un No no Un pazzo mi è saltato nel box Ok Uno ucciso Un full boxato Ok Quale hai ucciso Un altro a caso Che è arrivato da dietro Non ho mai capito il mio Perché Dammo un altro ancora Mamma mia L'ha stato No 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 Sono morto In una maniera Che non hai idea Non hai idea come sono morto Cioè tu se sapessi come sono morto Non ci crederesti Spamma Spamma ti prego No me l'ho chillato Voglio piangere E ti prego No ok c'è un altro Eh ma no Il problema ce ne sono troppi altri Non sai come sono morto Però sai cosa devi fare eh Prendimi scheda Scheda sotto Mi vai a restare qua Dove sei Sotto Non so se hai capito che Però è un po' difficile eh Oh mio dio Dove ho ancora la pizza Oh mio dio Oh mio dio Ma guardi Ma raga ma io Ma tu non hai ancora capito Come sono morto Quello lì è quello di prima ancora Ok ne ho capito Devi provare a vincere la partita Devi provare a clacciarla te Non ci credo che non abbiamo neanche provato Le robe della tarda Ma basta ma guarda là sopra Oh mio dio Quanto voglio piangere Laga come sono morto Non ci credo Ok bravo Devi Devi far Non posso dirti nulla Letteramente Cioè Qualsiasi cosa che ti dico È sprecata perché Devi giocarti da te Brother Eh io Mi sto Sto ancora rimpiangendo Come sono morto Pensa un po' te Ah il mio obiettivo in realtà È quello di Devi prendermi la scheda straveloce Per andermi a restarla Prendila ora Adesso Devi andare Devi andare Succede quello che succede Vai prendila veloce Prendimi anche il potere Prendimi anche il potere Bravo Vai verso il reboot là È l'ultimo Ok se no ci sarebbe l'altro Sì però qua devi andarsi 24 ce la fai Ce la fai Mamma mia ragazzi No non ci credo Ah ok No ma di cosa stiamo parlando Hai le pizze L'unica cura che hai Oh mio dio Ok Devi subito restare Se no arriva la safe Poi ti curi con la macchinetta Ok Per ora resta subito Subitissimo proprio Vai 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 Subito Allora Non ti devono sniperare per un pelo eh Ok tu curati la macchinetta ok Io inizio ad andare in safe Che è fuori safe però No è lì È lì dietro di te Dietro di te c'è la macchinetta Questa qua È proprio dietro Girati ce l'hai dritta Curati con la vita Bravissimo Prendi gli shield Fai tutto quello che devi fare Intanto me inizio ad andare un po' in safe Il problema è che raga Dove voglio andare io Non è vero Ma hanno sniperato in volo Ma hanno sniperato in volo Brother ma hanno sniperato in volo Ma hanno sniperato in volo No Ma raga ma posso piangere Ma cosa ho appena visto Ma ci hanno pushato solo noi Tutto il tempo questi Ma te lo giuro voglio piangere Si sniper per forza No ragazzi è assurdo Vattene fuori safe se no Ma guarda questi Gigi ragazzi Ma ragazzi ma guarda questi Ragazzi ma ragazzi stiamo parlando C'è Godo che sono morti fuori safe Quanto sto godendo Quanto sto godendo Te lo giuro Sono felicissimo In ogni caso Ma cosa stiamo parlando Brotero fate sapere cosa ne pensate Delle tartarughe ninja in generale Dei poteri Io non l'ho testato come avrei voluto In ogni caso like In sezione al codice ferro Ci vediamo al prossimo video Bella rega